Quella sera Minazzi si arrabbiò perché noi siamo la culla della scienza moderna e incredibilmente stiamo diventando gli ultimi nella elaborazione della scienza del futuro, nella ricerca, nelle applicazioni della scienza del futuro e per futuro non si intende più come si intendeva una volta, un secolo, due secoli ma tre anni, cinque anni, dieci anni. Veronesi ci conferma che entro vent'anni non solo tutti i cento tumori saranno curati ma anche tutti guariti ma che si capirà definitivamente grazie alla biologia molecolare e grazie a tutto quello che abbiamo scoperto con la mappatura del genoma e con la conoscenza del DNA il meccanismo stesso che sta alla base della patologia tumorale. Quindi capite che vent'anni sono tantissimi per chi oggi è malato ma sono pochissimi per chi oggi ha dieci anni e a trent'anni dovrà forse solo preoccuparsi dal punto di vista della salute e delle malattie cardiovascolari. Così come nessuno di noi si occupa più nel nostro paese altrove è diverso di tubercolosi o di tifo o di influenza? Ve lo dico perché io ho fatto in tempo a conoscere dei bisnonni i cui fratelli come in tutte le famiglie italiane erano morti o di parto o di tifo o di influenza? Tutte malattie di cui a noi ci fanno ridere e che non consideriamo nemmeno. Vi dicevo quindi che il problema dell'Italia è che incredibilmente abbiamo dato vita alla scienza moderna e siamo indietro. Cosa vuol dire indietro? Quando si dice indietro si fanno dei numeri che possono sembrare molto aridi. Io adesso ve li ripeto ma poi ve ne aggiungo altri per capire quanto tutto questo ci tocca nella carne viva. Allora i numeri aridi sono che i paesi che stanno diventando dominatori del mondo dal punto di vista economico finanziario i cosiddetti paesi BRIC cioè Brasile, India e Cina che sono i paesi che già oggi hanno cominciato a trainare l'economia e saranno i protagonisti dell'economia della seconda parte di questo secolo investono in ricerca scientifica e tecnologica quasi il 10% del loro prodotto interno lordo cioè della loro ricchezza. È una cifra enorme ma il che spiega perché sono così rapidi e perché i loro prodotti costano meno e invadono i nostri mercati. Non è solo un fatto come vi raccontano i nostri industriali e i nostri sindacalisti che sono vecchi nella testa un problema di costo del lavoro perché sembra che è sempre colpa degli operai e perché non c'è valore aggiunto di tipo tecnologico nei nostri prodotti che sono ottimi prodotti ma vecchi dal punto di vista del contenuto tecnologico e della concezione. Appartengono al secolo scorso mentre oggi bisogna fare prodotti che appartengono a questo secolo e al secolo successivo. Ma per non andare così lontano andiamo ai paesi i nostri fratelli dove molti di voi sono andati o spero andranno a fare l'Erasmus, quindi la Germania, la Francia, l'Inghilterra, i paesi della Scandinavia. Loro investono ogni anno in ricerca e in ricerca applicata il 3% del prodotto interno lordo. Sembra poco rispetto a quelli e infatti l'Europa sta cominciando a perdere colpi nei confronti dei paesi BRIC, Brasile, India e Cina, ma è tantissimo rispetto a noi. Io non so se dirvelo se non lo sapete. 0,5% succederà presto. Lei è un po' pessimista ma io sono già disperato perché siamo a 0,9%. L'Italia investe ogni anno, quest'anno, in ricerca lo 0,9% del prodotto interno lordo. Se dividiamo questo tipo di investimento fra settore pubblico e settore privato c'è veramente da vergognarsi e soprattutto non sappiamo da che parte girarci perché dice vabbè lo Stato si sa non investe in cultura, non investe in ricerca, non investe nella scuola, non investe quindi su di voi e sul futuro e quindi non stupisce che investa in tutto, in scienza e tecnologia, lo 0,4%. Però dice beh i privati, per dirci, ci sono i privati. 0,5%. Non so se voi sapete che a Roma, nella sola città di Roma, ci sono più avvocati che in tutta la Francia. Solo a Roma. E lo dico da fratello, nipote, pronipote di avvocati, quindi non è che ho qualche motivo di essere antipatizzante nei confronti degli avvocati. Ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia. Che vuol dire? Se non avete un padre con un meraviglioso studio di avvocato già avviato o se non avete qualche aggancio per fare il magistrato, non vi iscrivete a giurisprudenza, a meno che non sia una passione, una vocazione tale per cui scopriremo in voi un magistrato militante o un genio che inventerà soluzioni giuridiche alle nuove sfide del millennio. Ma se ci pensate per trovare lavoro senza avere uno studio già pronto, lasciate perdere. Ma non ve lo dice nessuno. È pieno ancora oggi di gente che si iscrive a giurisprudenza e quando incontro dei ragazzi che stanno per farlo gli dico ma fatta la premessa, hai lo studio di papà o hai una motivazione profonda perché vuoi fare il giudice militante, allora per carità non dico niente. Ma altrimenti dico ma perché? Perché non me lo dice nessuno che ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia e questo vale, ahimè, per tante altre facoltà. L'Italia è ancora dominata da una cultura giuridico-letteraria in cui anche l'economia non viene trattata come una scienza come la London School of Economics ma come un avviamento a fare il commercialista e il ragioniere che va benissimo ma è un approccio anche lì, ce l'hai uno studio di commercialista in famiglia, se no che fai economia se non vuoi fare l'economista in termini scientifici cioè in termini di ricerca. Nessuno dice quali sono le facoltà che offrono non solo lavoro e non c'è niente di male secondo me a voler scegliere anche sapendo che quattro soldi in croce uno li può anche mettere ma anche per essere protagonisti del proprio tempo. Quando i vostri padri, i vostri nonni facevano, se potevano permetterselo, legge o economia e commercio o lettere erano figli del loro tempo. L'Italia è stata fatta in gran parte, il risorgimento è stato fatto in gran parte da avvocati, da professori di liceo e di università, quindi meno male che li abbiamo avuti. Ma era l'Ottocento, noi siamo del 2010, finita la prima decade del primo secolo del terzo millennio e ancora ragioniamo e pensiamo che il mondo sia raccontabile, interpretabile, soprattutto gestibile con gli strumenti di due secoli fa. Ma è una cosa che non sta in piedi, ma se ne accorgono tutti, ma se se ne parlasse. Il mondo, il futuro del mondo sia inteso in termini di crescita collettiva, di crescita economica, di crescita di opportunità, di crescita individuale, di occasioni per tentare di essere felici, che è un diritto come previsto dalla Costituzione americana, richiede altri tipi di studio e altri tipi di applicazione. L'informatica, l'ingegneria elettronica, l'ingegneria aerospaziale, le neuroscienze, le biotecnologie, le scienze ambientali. Se voi pensate alle cose nuove che abbiamo in casa e le cose nuove che avremo, capite dove bisogna andare a parare per fare degli studi che abbiano senso oggi e domani, per tutti e per noi singolarmente presi. E invece in Italia nessuno si iscrive a fisica, a matematica e a tutte le materie che sono propedeutiche a questo tipo di studio. Quando in Italia si dice materia scientifica, di solito si fa riferimento alla medicina, perché anche lì tutti pensano di trovare posto di lavoro. È come per gli avvocati. Il professor Veronesi è un medico-chirurgo, ma è soprattutto un ricercatore, in questo caso di biologia molecolare. Cioè le grandi questioni risolte della medicina, i tumori, le malattie infettive e le malattie degenerative, verranno risolte intervenendo sul DNA e quindi studiando non medicina, ma studiando biologia molecolare. Ma chi ve lo dice? No. 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 No.